Sono trascorsi 47 anni dal terremoto che il 6 maggio del 76 devastò il Friuli. Per ricordare quell'evento, il comune di Pordenone ha organizzato un incontro dal titolo Rinascere dalle macerie, dalla ricostruzione a un nuovo modello di sviluppo. Ad intervenire davanti a un folto pubblico il sindaco Alessandro Ciriani, il suo omologo dell'Aquila Pierluigi Biondi e il presidente di Confindustria Alta Odriatico Michelangelo Grusti. Un'occasione per ricordare, ma soprattutto per fare un bilancio su quello che il sisma ha insegnato nella gestione delle calamità e nell'importanza dell'aiuto reciproco. Il terremoto del 76 segnò per il Friuli una pagina terribile, nera, fatta di dolori, di morti, di distruzione. Tuttavia il Friuli reagì con grande compostezza, ma anche con grande determinazione. Le parole del arcivescovo di Udine e Battisti, prima le imprese, poi le case, poi le chiese, fu la cifra che caratterizzò quel momento. Per cui un popolo peroso ricostruì pietra su pietra ciò che il terremoto aveva distrutto. Oggi abbiamo anche l'onore di ospitare il sindaco di L'Aquila, altra città che è stata letteralmente distrutta da un terremoto come quello del Friuli. Gente rocciosa che non si arrende ma che al contrario ha fatto di quella che è stata una disgrazia una grande opportunità di crescita. Proprio dal terremoto riprese la volontà di costruire zone industriali, di mettere in moto la protezione civile che poi divenne un modello nazionale. E quindi la sintesi della laboriosità e del senso di corpo, di spirito del popolo friulano. Una ricostruzione può essere il volano di una nuova rinascita. In Friuli è stato così, all'Aquila l'opera di ricostruzione è stata molto più complicata, molto più lenta, anche perché le caratteristiche della città. Però ecco, il modello Friuli purtroppo non è stato sempre replicato. Tutti hanno parlato di modello Friuli, poi puntualmente non è stato tradotto infatti là dove le emergenze si sono generate. È un momento per lanciare un appello definitivo sulla necessità che l'Italia ha bisogno di un codice della ricostruzione e che i cittadini di qualsiasi parte dell'Italia hanno il diritto di sapere cosa sarà della propria casa, della propria comunità, della propria vita, un secondo dopo una calamità. In Italia negli ultimi 50 anni si sono spesi circa 150 miliardi di euro per le ricostruzioni e troppo spesso si è badato poco alla prevenzione. È quel momento di fare il salto di qualità, anche agevolati dal fatto che dopo molti anni c'è un governo che ha una maggioranza che è la stessa che si è presentata alle urne e ha una prospettiva di legislatura che consente di fare le riforme di cui abbiamo bisogno. Al termine dell'incontro il sindaco Biondi ha donato a Pordenone il fiore della memoria, un crocus che simboleggia forza e tenacia. La stessa che caratterizza la gente dell'Aquila, molto vicina per indole al popolo friulano.